ciao amici di outcast siamo sempre Nabu, Joe, Pep, San Francisco, GDC per parlare di Neon City Riders che nella fatta di specie siamo noi che siamo andati nella discoteca dell'altro video per provare videogiochi o die trying e a proposito di die trying Neon City Riders è un gioco d'azione direi un po' bicchiaduro a scorrimento se vogliamo grafica pixelosa personaggini piccoli va in giro saccagnate tra l'altro scelte stilistiche c'è questo qua con la maschera tipo venerdì 13 gente pericolosa insomma c'è in sto gioco appunto i riders ma c'è anche un barbone con la ma gli raggi mi sembra ricordare sì sì è bizzarro il design dei personaggi diciamo e sì picchiaduro a scorrimento retro se vogliamo perché appunto grafica pixelosa e tutto però in realtà con meccaniche abbastanza moderne un po' sounds like se vogliamo nel senso che hai la classica barra della stamina ormai non sei nessuno proprio nel mondo se non hai una barra della stamina anche in politica devi avere la barra della stamina se no chi ti si ama ormai che si consuma per qualsiasi cosa che tu faccia puoi fare schivate lanciarti velocemente in una direzione o nell'altra c'è la perry c'è la parata la 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 contromossa poi se tieni premuto il grilletto e premi il tasto momento giusto puoi anche rispedire al mittente i proiettili sono tutta una serie di cose pensate per rendere il sistema di combattimento un po più vario un po più articolato non è solo tirar mazzate che comunque c'è ma c'è anche questo aspetto di botta risposta un minimo di tattica e diciamo non c'era lo sviluppatore con cui chiacchierare per cui vado a intuizione a quello che ho osservato giocando mi è sembrato anche questo roguelike come altre 162 cose provate in questi giorni muori facilmente riparti dall'inizio e riaffronti le stesse cose però con un twist un po diverso magari sbloccato roba c'è un po di generazione casuale di personaggi che vai ad affrontare in queste che sono comunque abbastanza delle arene cioè è vero che segui un percorso però poi si blocca tutto un po come nei primi god of war tac arena e combatti mi è sembrato molto carino sistema di controllo comunque sufficientemente articolato senza che debba diventare una rottura di balle per poi fare un po di cose interessanti tosto ho preso un sacco di calci in culo sono morto sverate volte finché ho detto ne sai che è basta però sfizioso promettente vedremo cosa ne verrà fuori ciao 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 ciao